se parliamo di second chance dobbiamo prendere in considerazione due aspetti il primo è ciò che ci impedisce di realizzare i nostri sogni sapete cos'è è il talento sì lo so mi state guardando come se fossi impazzito ma lasciate che ve lo spieghi con un esempio io ho un grandissimo amico che è un giornalista della rai dalla coda quando è nato ha sempre avuto il sogno di lavorare e vivere negli stati uniti d'america io lo conosco da otto anni da quando ho iniziato questa avventura negli stati uniti e ogni anno ogni volta che parliamo gli propongo sempre qualcosa che gli post che lo possa aiutare a realizzare il suo sogno e la sua risposta è sempre la stessa è stefano ma io so fare solo il giornalista e la mia risposta e la mia correzione è puntualmente la stessa no caro dario tu non sai fare solo il giornalista tu hai dimostrato di saper fare persino il giornalista sì perché in realtà spesso non riusciamo a cogliere le opportunità e a realizzare dei progetti perché ci siamo costruiti attorno una gabbia le cui sbarre sono i talenti e ciò in cui siamo stati bravi fino ad oggi cioè ciò che ci ha reso qualcuno in un settore perché ancora ci portiamo dietro il retaggio delle generazioni precedenti dove per tutta la vita si faceva lo stesso lavoro si entrava dal posto più umile di un'impresa poi con il tempo con l'anzianità si cresceva e si arrivava il fatidico giorno della pensione come fantozzi quando si usciva e c'era la grande festa 40 anni 30 anni 50 anni nella stessa impresa facendo lo stesso lavoro nella stessa nello stesso ufficio oggi non è più così questa etichetta non c'è più piacere stefano versace broker assicurativo piacere dario celli giornalista rai piacere mario rossi fa legname oggi non si usa più non si dice più perché negli stati uniti se tu lavori per oltre cinque anni nella stessa impresa facendo le stesse cose perdi valore perdi valore perché automaticamente hai dimostrato di non sapere essere utile di non saperti adattare a un mondo che cambia sempre più freneticamente sappiamo tutti che il mondo è cambiato negli ultimi 50 anni più di quanto abbia fatto nei 500 precedenti e negli ultimi 5 più di quanto abbia fatto negli ultimi 50 quindi non si può rimanere chiusi dentro questa gabbia per pensando che sia la unica cosa che sappiamo fare io vengo dal mondo delle assicurazioni mi ricordo che a 16 anni prendevo la mia moto uscivo dal liceo scientifico e lunedì mercoledì e venerdì andavo da Ancona a Falconara Marittima ad aprire la mia subagenzia di assicurazioni ho iniziato così facendo piccole polizze vendendo polizze auto polizze vita polizze infortuni poi sono cresciuto ho imparato nuovi aspetti di questo lavoro fino a diventare un esperto e broker assicurativo di antipubblici al punto tale che il più grande broker al mondo mi disse per favore vieni a lavorare da noi perché sei diventato un incubo ti troviamo ad ogni gara pubblica e così fu io iniziai a lavorare con loro poi sono nato in Venezuela dove per cinque anni mi sono dedicato a una compagnia di assicurazioni diventando il loro dirigente più importante nel mondo delle riassicurazioni il mio mondo per 16 anni è stato quello delle assicurazioni piacere Stefano Versace broker assicurativo poi ho deciso che era il momento di cambiare ho deciso che quei talenti che avevo dimostrato in questo mondo li potevo utilizzare in un altro e così ho aperto un piccolo ristorante urbino da lì è iniziata la mia avventura nel mondo del food un mondo completamente diverso del quale non sapevo nulla ma ero cosciente che avevo dei talenti che avrebbero dato dei risultati anche in un altro settore da lì sono evoluto abbiamo deciso con la mia famiglia di realizzare il sogno di vivere negli Stati Uniti d'America e siamo venuti ad aprire la nostra prima gelateria oggi siamo leader del mondo del gelato qui in Florida e negli Stati Uniti dell'America grazie al fatto che non ci siamo creati questa gabbia quindi il primo augurio che vi faccio è di rompere le sbarre di questa gabbia che vi siete costruiti da solo inevitabilmente che è costituita dai vostri talenti da quello che sapete fare da quello che vi credete di essere bravi a fare e che sia la unica cosa che sapete fare no avete dei talenti li potete utilizzare in qualsiasi settore la seconda parte che bisogna affrontare quando si parla di second chance è il rapporto che si ha con il fallimento pessimo per gli italiani davvero pessimo pensate ai titoloni dei giornali imprenditore si suicida per il fallimento della sua impresa innanzitutto l'imprenditore non si suicida per il fallimento della sua impresa ma si suicida per il pessimo rapporto che ha con il fallimento perché gli imprenditori falliscono anche negli stati uniti e tu negli stati uniti un titolo del genere non lo vedrai mai non vedrai mai un imprenditore che si suicida perché la sua impresa è fallita sapete perché perché negli stati uniti fallire è normale e socialmente accettato sin dal tempi della scuola io adoro la scuola dei miei figli una scuola pubblica dove appena entri c'è un poster gigante con scritto make mistake cioè fai errori sotto c'è scritto la penicellina è stata scoperta per errore i nostri programmi sono studiati per far sperimentare i nostri ragazzi e abituarli all'errore perché questo è ciò che gli aspetta nella vita se ci pensi anche nella scuola italiana c'era quando andavo io a scuola quella famosa matita di due colori rosso da una parte che indicava il colore l'errore normale e poi quando l'errore era gravissimo allora c'era l'errore marcato col blu ok si penalizza si castiga chi sbaglia negli stati uniti non si castiga chi sbaglia perché se vai a scuola è perché devi imparare normale che sbagli si premia chi ce la fa e questo non aver castigo sin da bambini ti permette di cominciare a vivere l'esperienza della vita senza aver paura del fallimento ora c'è una frase che io adoro tantissimo negli stati uniti che si richiama che dice fail fast cioè fallisci rapido fallisci velocemente perché prima fallisci prima raggiungi l'obiettivo prendiamo la mia storia io negli otto anni che ho creato qui la catena di gelateria più grande degli stati uniti avrò chiuso almeno una dozzina di gelaterie ma senza la chiusura di quelle 12 gelaterie più o meno oggi non avrei una ventina di gelaterie prestigiose nei migliori angoli di Miami possiamo considerare quelle 12 gelaterie un fallimento o un passaggio obbligato se ci pensi hai fallito dal primo giorno che sei nato hai fallito quando hai iniziato a provare a camminare hai fallito quando hai iniziato a parlare hai fallito quando hai iniziato a studiare matematica hai fallito quando hai studiato hai cominciato ad andare in bicicletta per oggi sai parlare sai camminare se andare in bicicletta due conti li saprai anche fare e questo perché sei passato per quei fallimenti senza paura senza problemi capendo facendo tuo sin da bambino che sbagliare era normale ecco quindi quel fail fast che dicono negli stati uniti significa non aver paura comincia subito a fallire comincia subito non aspettare il momento perfetto procrastinare è dovuto al fatto che abbiamo sbagliato avevamo paura di sbagliare aspettiamo il momento giusto per fare le cose il momento giusto non esiste il momento perfetto non esiste la perfezione è qualcosa che uccide l'imprenditoria uccide la vita delle persone bisogna fare tentativi bisogna provare bisogna sbagliare bisogna correggere perché solo correggendo gli errori si raggiunge il successo quindi il mio più grande augurio che posso farti a te che stai vedendo questo intervento è quello di prendere la valigia di metterci dentro tutto ciò che hai sempre sognato di realizzare di metterci dentro i tuoi sogni i tuoi obiettivi i tuoi desideri metterli dentro e uscire fuori uscire fuori e cominciare a fallire ti auguro di fallire il più presto possibile perché il successo è quel premio straordinario che si trova dietro l'angolo dove hai commesso l'ultimo errore